Ciao, benvenuto nella elenco prodotti. In questo video andremo a dare un'occhiata al 5 miglior lettore Blu-ray. Ho creato questo elenco in base alle mie ricerche e opinioni personali e ho cercato di elencarli in base alla loro qualità, prezzo, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cut link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la Sony Hubpix 500 lettore Blu-ray. Un modello top di gamma con un'uscita DMI, una porta Ethernet con funzionalità Wi-Fi e un ingresso Hub anteriore, necessario per la riproduzione dei formati video e audio più comuni, inclusi FLAC, VAV e DSD. Questo lettore Blu-ray si adatta perfettamente a qualsiasi stile di arredamento grazie al suo design sottile. In termini di multimedia, non c'è dubbio che il Sony Hubpix 500B offra risultati eccellenti. Il lettore Blu-ray 4K Ultra HD, in particolare, offre un livello di luminosità e colore che raramente si incontra in altre versioni di fascia alta. Ottima anche la conversione dal formato HDR-ASDR, la qualità dell'immagine e del video sono entrambe migliorate grazie all'algoritmo Sony. Al numero 4, abbiamo Panasonic DMP BDT 381 lettore Blu-ray barra DVD 3D. Un lettore Blu-ray che si distingue per la cura dei dettagli in termini di design e qualità. Il guscio in plastica nera e lucida, che sfuma in un grigio scuro satinato nella parte superiore, dove sono posizionati i tasti, è diventato un classico che ci si aspetta dall'azienda giapponese. Per chi ama l'intrattenimento, questo è un must. La replica delle fotografie 4K e l'upscaling a 4K sono notevoli. Collegalo semplicemente a un dispositivo mobile per visualizzare i migliori contenuti o i video preferiti di Netflix. Tornando all'upscaling, va notato che nel caso della Panasonic DMP BDT 381, questo approccio di elaborazione è estremamente forte, poiché alle foto originali vengono aggiunti milioni di pixel. AST. Al terzo posto, abbiamo la Panasonic DMP BDT 184 lettore Blu-ray. Un lettore Blu-ray compatto e ben progettato con uno straordinario schema di colori nero. La tuta del BDT 184 Panasonic DMP Strong è la sua versatilità, poiché occupa poco spazio, può essere posizionato quasi ovunque. Nel complesso, la qualità visiva del video è accettabile, visualizzare i video in formato ULTRAD non è come riprodurli su un normale lettore Blu-ray. L'upscaling, così come il supporto Fold, 2D e 3D, sono tutti molto competitivi. Il connettore Ethernet sul retro consente un facile accesso a Internet. Anche la compatibilità con una varietà di formati audio è importante. VMA, MP3, XVID, ACD, VMA e MPO sono i formati più popolari. Al numero 2, abbiamo il Sony BDPS 1700 lettore Blu-ray Full HD. Un lettore Blu-ray è un must per chiunque apprezzi i dettagli ad alta definizione in tutto ciò che guarda, dai film in DVD ai contenuti in streaming, la tecnologia Triluminous TM Color di Sony offre nitidezza dell'immagine e intensità del colore ottimali. Il modo migliore per godersi questi film è guardarli in 1080p, perché i colori, va notato, prendono vita. La gamma cromatica è vibrante, con solo pochi rossi, verdi e blu altrettanto vividi. I paesaggi di terra e di mare sono resi nel modo più realistico possibile. In termini di qualità audio, l'azienda giapponese ha il merito di aver svolto un lavoro eccellente, la registrazione originale conserva ogni tipo di sottigliezza, risultando in un suono sorround realistico e cristallino. È grazie a Dolby Marchio registrato Truehead che questo è possibile. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il LGBT 250 lettore. Le dimensioni di 27 x 19,5 x 4,3 mm indicano un lettore Blu-ray dal design piccolo. Se consideriamo che l'obiettivo principale di questo articolo è quello di consentire ai suoi proprietari di guardare sulla TV immagini e file video salvati su una cavetta USB, la casa sudcoreana lo ha raggiunto completamente. La qualità visiva è eccezionale, la funzione Full HD upscaling assicura che il segnale del DVD sia 5 volte più chiaro dell'originale. Cosa serve per avere una buona visione? Il fiori all'occhiello del GBP250 è senza dubbio il Simplink. Sarà possibile gestire vari dispositivi oltre a controllare il sistema LG o Meteater con un unico telecomando. Comando. Comando.